NPL Meeting 2017 di Banca IFIS, siamo con l'amministratore delegato Giovanni Bossi. La prima domanda è relativa proprio all'evento in sé, che negli anni sta diventando in Italia il punto di riferimento dell'NPL, una bella responsabilità. Siamo molto contenti di tenercele, questa responsabilità la portiamo con buona fierezza. Sesta edizione, siamo partiti sei anni fa in 40, sesta edizione, 800 partecipanti, una lista d'attesa di 200 persone che purtroppo non siamo riusciti a soddisfare. Grandissimo interesse a tutti gli operatori nazionali e internazionali. Siamo molto bene, siamo molto contenti di offrire questa possibilità a tutti quelli che sono interessanti a questo mondo di avere una visione a 360 gradi e anche di fare un po' di buoni affari perché vedo che si stanno parlando moltissimo. Sicuramente il segreto di ogni convegno, oltre al panel dei relatori e contenuti, è anche il networking che si fa al coffee break. E proprio su questo profilo, il business, quello dell'NPL, dove va il mercato nel 2018? Ci sono state operazioni anche governative sul mondo banchiario italiano, insomma ci sono grandi novità per le banche venete, per Montepaschi. Che cosa succederà? Prima di parlare del 2018 e del 2017, 30 miliardi, 32 miliardi di operazioni già chiuse prima d'oggi, una pipeline di, secondo le nostre stime, altri 70-71 miliardi di euro che potrebbero atterrare sul mercato nei prossimi 3-4 mesi e quindi entro la fine dell'anno. Alcune operazioni sono già pronte, prossime, sappiamo che si faranno, altre sono un po' più in bilico, ma se questo scenario, 70 miliardi ulteriori da qua a fine anno si realizza, il 2017 passerà la storia come l'anno che ha superato i 100 miliardi di cessioni di deal sul mercato. È una cosa molto buona, rappresenta un po' la svolta, negli anni scorsi non facevamo cifre molto modeste rispetto a questo, ce n'era bisogno, i prezzi si stanno avvicinando a quelli che le banche vorrebbero ottenere, un po' perché le banche hanno calato le aspettative, e un po' perché i tassi bassi spingono gli investitori ad accettare rendimenti più contenuti rispetto a quelli che erano soliti avere fino a qualche anno fa. Tutto insieme, mi sembra che le premesse siano ottime, vediamo gli ultimi mesi del 2017 e poi per partire, ciò che non si farà nel 2017 sicuramente partirà in maniera molto vigorosa nel 2018. Le facciamo un ultimo paio di domande un po' più tecniche, ne approfittiamo della sua disponibilità, anche perché noi siamo una rivista che guarda al mondo delle informazioni sul credito e al mondo della gestione del credito, e allora anche lì ci sono novità normative in arrivo, nuovo regolamento della privacy, c'è un mercato di piccoli operatori del recupero crediti che ha visto cambiare il loro mestiere. Allora dal punto di vista di Banca IFIS, questo settore dell'MPL, che ha dei volumi estremamente significativi, riuscirà a trovare un'adeguata professionalità in questi mondi, il comparto delle informazioni sul credito, quindi le informazioni commerciali e le investigazioni, e il comparto della gestione e del recupero? Ma è una sfida che il nostro mercato deve vincere e deve vincere insieme, banche, servicer, raccoglitori, chi si occupa delle informazioni. Certo, senza informazioni, senza dati, non fai assolutamente nulla. Dal nostro osservatorio, dal nostro punto di vista, noi facciamo recupero di per lo più posizioni originate nel credito del consumo, quindi quelli che si chiama consumer unsecured, e in questo settore raccogliere informazioni è vitale, l'abbiamo aumentato di molto i tassi di recupero, utilizzando modelli di recupero alternativi, innovativi, ma tutti basati sulla disponibilità di informazioni, e le informazioni devono essere della migliore qualità possibile, ottenibili ragionevolmente a un costo che per quanto ci riguarda deve essere il minore possibile, all'interno di un contesto normativo che deve essere il più chiaro possibile. Sul punto normativo, mi piace dire una cosa, riguardo il fatto che ci sono due interessi in gioco, un interesse alla privacy da parte del consumatore, del cliente, ma anche l'interesse da parte di chi non è stato pagato, di poter attivare le doverose azioni per il recupero. C'è un equilibrio sottile tra questi due interessi, e dobbiamo fare in modo, da livello anche normativo, che entrambi siano rispettati simultaneamente. Bene, grazie, grazie mille per essere stato con noi. Arrivederci. Grazie a tutti.